Cambiare pelle dopo una vita da attaccante. Andrea Bonetti ha saputo riadattarsi, cucendo su di sé un nuovo abito tattico. Questione di mentalità. 5 curiosità di Juventus News 24 sul centrocampista della Juve Primavera. Pronto, parlo con Bonetti? Accademia Grugliasco e Accademia Inter Torino sono le due tappe dell'Interland torinese che permettono a Bonetti di essere subito notato dagli osservatori della Juventus. E lui poi a confermare le ottime impressioni in bianco-nero, guadagnandosi giorno dopo giorno l'investitura di leader del settore giovanile della Juventus. Sempre in crescita. Il primo biglietto da visita in cui consacrarsi è l'Under 15 della stagione 2017-2018. 16 reti in 28 presenze per il classe 2003 che si conferma anche l'anno successivo in Under 16 mettendo a referto 17 centri in 24 apparizioni. Il trampolino di lancio in Under 17 lo prepara al salto in primavera dove al primo anno mette a segno 22 apparizioni, 3 reti e 2 assist. Nuova vita. La grande novità nel percorso di crescita di Bonetti arriva nella stagione 2021-2022. Il tecnico della Juve primavera, Andrea Bonatti cambia il suo abito tattico da attaccante puro a centrocampista centrale. Come dichiarato dallo stesso Bonetti è stato un passaggio abbastanza normale che gli ha permesso di compiere uno step in più nella sua crescita e nella sua carriera. Fonte di ispirazione Zlatan Ibrahimovic rappresenta sicuramente un modello da seguire per tanti giovani calciatori in campo. Anche Bonetti ha confessato di essersi ispirato a lui per la sua mentalità e il suo carattere. Fa sembrare tutto più semplice ha detto il classe 2003 che apprezza anche il suo atteggiamento e le sue giocate. Legame d'amore Ma cosa rappresenta la Juventus per Bonetti? A dichiararlo è stato lo stesso centrocampista in un'intervista a Juventus TV nella quale ha svelato il suo rapporto con il mondo bianconero. La Juve mi ha insegnato molto a non mollare mai e a vincere tutte le partite. Quando sono arrivato qui ho imparato a trattenermi in più situazioni di gioco ad essere più pulito. Mi sento migliorato nella disciplina e nella parte caratteriale. Penso molto di più prima di fare una giocata. Andrea Bonetti Finalizzazione Visione di gioco e fantasia Diteci con un commento cosa ne pensate del centrocampista della Juve Primavera iscrivetevi al nostro canale YouTube e mettete mi piace alla pagina Facebook.